Un caro saluto a tutti i lettori del sito online della Voce, oggi sono venuto in visita alla casa editrice Edit e ho conosciuto il direttore Superina e tutti i suoi collaboratori e spero di continuare l'eccellente collaborazione con la casa editrice, con il quotidiano e con tutte le pubblicazioni e del Consulato Generale d'Italia a Fiume e mi impegnerò in questo senso. Un caro saluto.